Lisa Gray, restauratrice d'arte statunitense, alla prima importante missione, è chiamata in un piccolo villaggio italiano per riportare all'antico splendore un dipinto medievale rovinato da un incendio. Non sa che sta mettendo la propria vita in pericolo a causa di un'antica maledizione che genera creature maligne, sangue e atroci sofferenze. Dunque, film questo Teuel è quanto mai sgradevole, zeppo di efferatezze e grondante sangue. Quanto a confezione, confuso, dispersivo e sgangherato come pochi altri del genere. Ci si chiede, insieme a Lisa, la protagonista del film, quale gusto sadomasochistico provi davvero la gente assistendo a spettacoli così truculenti, ma anche tanto goffi e rozzi. La regia è di Federico Zampaglione con Loren Lavera, Claudia Gerini, Linda Zampaglione. Il film uscirà nel sale il primo agosto prossimo. Noi l'abbiamo visto in anteprima ai giardini della paura di Parma. Signori, grazie, buona serata, alla prossima recensione, alla prossima puntata. Grazie.